mamma mia che caldo che fa ragazzi, fa caldo hey ciao giusti quanti ragazzi io sono Spagnolo alla spena e bentornati in questo nuovissimo video ah ah oggi ragazzi sarà un video bello, anche gli altri video che ho fatto erano belli ma qui c'è un video in cui io, come si dice in italiano non lo so però vabbè mi verrà in mente comunque sono qui perché voglio preparare con voi la zuppa con i fagioli per fare una zuppa con i fagioli dobbiamo avere un contenitore con la zuppa e ci mettiamo dentro i fagioli e abbiamo fatto una zuppa con i fagioli no vabbè sto scherzando sono qui perché voglio dire cosa succederà sabato e volete davvero cosa succede ma prima lasciate un bel video a questo video e magari lasciate anche mi piace la pagina facebook, c'è una pagina facebook del canale con pochi script, e poi le iscritte su facebook, no, mi piace, con pochi mi piace e niente boh lasciate lì mi piace e io adesso vi dico cosa succederà sabato si ragazzi sabato succederà una cosa nuova perché comincerà una nuova serie qualcosa di nuovo questo panino alla spena dove c'è urrà finalmente qualcosa di nuovo si no vabbè giustamente praticamente è una nuova serie è un nuovo tipo di contenuti che voglio fare e già avevo portato challenge tra cose che avevo cominciato un po' 6 settimane fa forse non lo so comunque già si è puntata abbiamo avuto di challenge tra cose adesso il sabato si affiancherà questo palino alla spina award un nuovo tipo di contenuto qualcosa di nuovo veramente ragazzi non è nulla di duccio di tutto ciò che avete visto fino adesso panino alla spina award vi ho assunto che cos'è? è un rock, uno shop, un documentario, tante altre cose mischiate insieme e avrò anche un inviato, ci sarà un inviato che andrà in giro per il mondo durante le varie puntate e purtroppo però vi dico già che non ho molta simpatia per quell'inviato io volevo farlo da solo sto video ho fatto anche prima il video da sole? no mi devo notare sto inviato che non mi anticipo nulla però vi dico già che mi farà veramente perdere più che perdere mi farà, si perdere, si è giusto non ho una parolaccia a perdere, mi farà perdere la pazienza ormai con questa cosa della restrizione non so nemmeno più qual è una parola che non è giusto parolaccia non lo so, mannaggia loro, mannaggia la restrizione e mannaggia l'inviato ok ragazzi veramente spero di vedervi numerosi sabato perché è qualcosa di bello, di nuovo qualcosa, ovviamente qualcosa di nuovo su youtube magari uno dice ah no no ma l'ho copiato da quello e invece no perché io non copio da nessuno io non copio soltanto no no non lo so comunque niente diciamo che questo era il vlog di oggi un vlog veramente in cui io vi invito sabato ad esserci e uno dice ma che vlog di M hai fatto? hai detto soltanto un annuncio di sabato ma non hai fatto niente e allora si che faccio qualcosa faccio qualcosa oddio stava per cadere tutto ecco stava per cadere la videocamera no io lancio i cuscini visto? guardate eh devo fare attenzione che tu... guardate eh io lancio i cuscini quindi faccio qualcosa in sto vlog e distruggo il mondo eh quindi non venitemi a scrivere ah ma che vlog non hai fatto niente si faccio qua guardate ok mi davo a tranquillizzare ammetto che forse sto un po' troppo esagerando sì ok sospiro di sallievo ma andiamo via ok e secondo me le emozioni di sabato ma dico già non mancate sabato salutatemi tutti i vostri cuscini il vostro divano e boh il sabato ci vediamo con un nuovo puntata di panino la spina world ogni sabato non mancate ah ecco per salutarmi senti di salutarmi ehi ciao tutto bene prima di salutarvi magari vi ricapito un attimo la programmazione il martedì ci darà challenge tra cose giovedì vlog normale come sempre fatto e il sabato panino la spina world quindi una bella programmazione visto che tutti i programmi adesso sono andati in ferie ma ci sono io a rallegrarvi niente boh ragazzi ci vediamo sabato per il prossimo video ciao a tutti